Ok ragazzi, nuovo video. Oggi avremo un altro Mythbuster molto carino che è il fatto che quello grosso ha ragione. Chi è grosso ha ragione? E può sembrare stupido come argomentazione, però credo che in realtà ci siano degli ottimi spunti di riflessione in qualche maniera. Allora, sostanzialmente l'idea di base è che nel sentire chi ha una teoria piuttosto che un'altra, l'unico modo per capire chi ha ragione è vedere uno quanto è grosso. Cioè della serie, se sei grosso, allora probabilmente quello che dici funziona perché ti ha permesso di diventare grosso. Quindi di base mi direziono in quel senso. Ovviamente la critica principale che viene fatta è che chi è grosso è dopato, quindi non è merito suo che è diventato grosso, ma semplicemente del doping. E questo è sicuramente un'argomentazione interessante e vera sotto un certo punto di vista, però al tempo stesso va aggiunta una cosa che oltre al doping c'è un fattore di genetica. Cioè molte persone sono grosse perché sono geneticamente portate per esserlo. Ora, come non possiamo capire quanto sia importante la percentuale di intervento del doping per la persona, perché magari un over responder è semplicemente cresce prendendo un minimo, comunque prendendo un filo di chimica e allenandosi male e utilizzando dei concetti sbagliati, così non possiamo neanche sapere qual è il patrimonio genetico della persona. Cioè magari una persona che geneticamente è super portata, quindi qualsiasi cosa che fa cresce come una pianta e rimane strappato, rimane grosso. E d'altro canto potrebbe essere una persona che non ha una buona genetica, però impegnandosi bene è effettivamente riuscita a raggiungere determinati risultati. Quindi la discriminante di base per capire questa argomentazione, che è valida nel senso che l'unico modo per capire se una persona ha ragione e sa fare le cose è vedere se effettivamente riesce a portare i risultati in generale, è quello di intervenire da due punti di vista. Il primo punto di vista è capire il background, cioè studiare meglio il soggetto. Perfetto, se io vedo che di base il soggetto parte con una genetica molto svantaggiata e magari non ha risposto bene nei primi anni di allenamento, non cresceva tantissimo e poi pian piano è riuscito a migliorare nel tempo sempre di più, allora probabilmente non aveva una genetica così vantaggiosa e è riuscito ad arrivare dove è riuscito ad arrivare proprio perché ha dei concetti sbagliati, alimentazione, allenamento, insomma qualsiasi cosa. Stessa cosa per quanto riguarda il doping, se vedo che ha utilizzato doping però per quanto utilizza per i farmaci che utilizza, ammesso che si possano sapere, ha dei risultati veramente incredibili, allora semplicemente i suoi risultati derivano dal fatto che sa allenarsi bene, sa mangiare bene e logicamente il doping gli permette di avere quella marcia in più e raggiungere risultati sovrafisiologici, ok? Però non toglie il lavoro duro che fa in sala pesi, insomma molte persone partono dal presupposto che basta che ti dopi e puoi arrivare all'Olimpia, non è così ragazzi, non è assolutamente così. Benissimo, intervenire in questo senso è difficile perché uno, da un punto di vista doping non possiamo sapere realmente cosa la persona stia facendo e due, in realtà, stesso cosa per la genetica, non possiamo essere precisi e sapere esattamente quanto è importante il fattore genetica per la persona, quanto è stato di impatto per i suoi risultati, quindi l'unica altra alternativa è vedere quanto riesce a replicare questi risultati. In realtà, nella maggior parte dei casi, quando io devo sentire una persona vedere se ha torto o ha ragione, vedo quello che riesce a fare su altre persone, quindi è un coach, magari, segue altre persone, quindi ho un campione di gente, di persone su cui posso valutare. Ora, se le persone che segue riesce effettivamente a trasformarle, a migliorarle in una percentuale molto molto elevata, ossia riesce a far raggiungere ottimi risultati a tanti atleti, allora probabilmente c'è qualcosa che ha capito molto bene, che sia empirico, che magari neanche lui sa spiegare, se è un bro, nella maggior parte dei casi di questo si tratta, però comunque c'è qualcosa che sa fare assolutamente bene. Quindi anche là, ragazzi, se vedete degli preparatori di alto livello, che hanno un sacco di atleti, che sono fenomenali, non è che potete dire, ok, vabbè, ma quello fa dopare, quello fa prendere tanto, no. Cercate di approfondire, perché magari un messaggio positivo, qualcosa da imparare, lo tirate fuori, anche perché loro stanno là, gareggiano a quel livello e fanno gareggiare a quel livello, e noi siamo semplicemente qua, quindi bisogna bagnarsi la testa un po' di umiltà e andare a seguire quello che fanno, anche se li vedete come bro o come macellaio, quello che vi pare. Poi, logicamente, nel momento in cui vediamo che l'atleta è veramente un portento genetico e quando parla non si capisce realmente che cosa stia facendo e non capisce neanche lui che cosa stia facendo, allora possiamo mettere in dubbio il fatto che siano concetti replicabili su di noi. Però fateci caso, in tutti questi casi, anche se l'atleta non ha idea di che cosa stia facendo o propina concetti sbagliati, c'è un fattore alla base che salva più o meno tutti quanti e che garantisce i risultati, ed è l'intensità che viene messa. Ossia, ogni atleta ha metodi di lavoro sbagliati, alimentazioni strampalate, proteine altissime, magari carboidrati bassissimi nelle fasi di cat oppure allenamenti super voluminosi, quello che vi pare, però di base si fanno il culo in palestra. Cioè, che sia in un senso, che sia in un altro, che sia per l'intensità, che sia per l'alto volume, che sia per quello o quell'altro, comunque in palestra macinano tantissimo e si spremono il più possibile, ne escono distrutti. Questa è probabilmente l'unica vera, l'unico vero comune denominatore che si ha nel bodybuilding, che va la pena starlo ad ascoltare. Poi per il resto, il mio consiglio in generale è grossi, non grossi, tenete le orecchie aperte per tutti quanti, perché c'è sempre da imparare. Ragazzi, qua sotto per qualsiasi domanda e osservazione, io vi rimando al prossimo video.